Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti. E' una riunione del gruppo sistema di controlli modello 231 compliance integrata e fattori ESG che è un gruppo di lavoro ormai fratello del gruppo sul bilancio sociale e sostenibilità e sotto legida dell'osservatorio ESG dell'OCEC di Torino. Oggi tratteremo in particolare da un lato l'evoluzione normativa da parte di Giuseppe e dall'altro lato un tema che sta a cuore a tutti noi e cioè quello della revisione, quindi della relazione di revisione sulla sostenibilità. Fermo restando che i punti e le incognite come sempre nel nostro paese sono ancora molti e quindi gli spunti che ci verranno dati servono anche per monitorare poi nei giorni successivi quelli che saranno i provvedimenti che siamo in attesa che vengano promulgati. A me corre l'obbligo ricordare anche per la caratteristica del nostro gruppo che stiamo parlando di un qualche cosa, cioè la sostenibilità, che si inquadra a pieno titolo nel tema degli assetti di governo e quindi della governance. Non siamo fuori da questi temi. Perché? Perché evidentemente gli organigrammi e i funzionigrammi aziendali dovranno in relazione alla maggior consapevolezza che gli imprenditori avranno, dovranno avere in relazione alla sostenibilità e ai fattori RG. Non fosse altro, non tanto perché siano obbligati, perché la maggior parte dell'azienda non sono obbligati a fare la rendicontazione e sostenibilità, ma non fosse altro perché spinti da quello che da un lato sono le richieste delle banche che invece sono obbligate a tutta una serie di rendicontazioni e soprattutto sono obbligate nello svolgere il proprio lavoro di soggetti che erogano crediti e finanziamento da un lato, quindi istruttorie di fido ad esempio, e dall'altro lato gli intermediari finanziari, fra cui anche le banche, ma non solo, soggetti che emettono dei titoli sul mercato a rispettare determinate regole. E quindi questi due soggetti, le banche, gli intermediari finanziari, insieme alle multinazionali che dovranno applicare la CSRD, quindi fare la rendicontazione di sostenibilità, nell'ambito della quale è prevista anche una valutazione sulla doppia materialità e quindi una valutazione su tutta la propria catena di valore. L'azienda non è più vista come un qualcosa di atomistico, di stand alone, ma è vista in un concetto aperto in cui l'ambiente esterno influisce sui nostri conti economici, i nostri conti finanziari, il nostro stato patrimoniale e l'azienda influisce sulla realtà esterna, sul suo più o meno alto benessere e sugli effetti che può provocare verso l'esterno. L'esterno si intende i propri clienti, i propri fornitori, i propri dipendenti, i territori su cui insiste, eccetera, eccetera. Quindi cambieranno gli organigrammi perché inizieranno a sorgere figure come il taxonomy manager o il manager della sostenibilità, cambieranno i funzionigrammi perché evidentemente il board dovrà iniziare a promuovere l'integrazione dei fattori ESG nella cultura aziendale. Oggi non è un'attività particolarmente sviluppata. Come? Ma innanzitutto essendo consapevoli di qual è il proprio quadro tassonomico. La tassonomia nasce soprattutto con riguardo ai finanziamenti e gli investimenti e i criteri dei finanziamenti e gli investimenti che devono fare gli intermediari finanziari, ma si riflette immediatamente sui soggetti che ricevono quei finanziamenti o che sono oggetto di quegli investimenti. Quindi si riflette sulle imprese. Quindi un'impresa oggi non può non chiedersi in termini di assetto organizzativo proprio qual è la mia qualifica tassonomica, come sono classificato e la mia catena di valore, che vuol dire i miei clienti principali, soprattutto i più grandi, e i miei fornitori, come sono messi sotto questo profilo. Io dovrò valutare quindi un'analisi un pochino più approfondita di quella che fino ad oggi si faceva e una cosa che io consiglio è di andare a leggere sul sito della Commissione il Taxonomy User Guide che è molto molto utile come guida alla verifica della proprietà sonomia. Altro aspetto di rimente è quello relativo al piano d'impresa. Cioè noi oggi abbiamo sempre visto, soprattutto nella cultura della responsabilità sociale dell'impresa, da porsi il tema dell'impatto dell'azienda verso l'esterno, il cosiddetto inside out, in una logica in cui le aziende più ricche, magari attraverso una propria fondazione, promuovevano una serie di attività più o meno benefiche che in una qualche misura andavano a poter essere effettuate perché garantite dal flusso di utili che derivavano dall'impresa o dai fondatori di queste fondazioni che erano gli imprenditori che ricevevano i dividendi di un'impresa particolarmente denarosa. Oggi questo discorso, non dico che è abolito, ma si è profondamente modificato nel senso che i fattori della transizione ambientale, di tipo sociale e di tipo relativi alla governa, soprattutto in un paese come il nostro, dove la cifra morfologica delle aziende è di taglio piccolo-medio, entrano negli obiettivi aziendali e ci entrano pesantemente. Perché? Perché anche alla luce dell'analisi che dicevo prima io dovrò prevedere degli investimenti che andranno nelle attività materiali, dovrò prevedere quindi degli ammortamenti o dei canoni di leasing che andranno nel conto economico, dovrò prevedere dei finanziamenti per fare questi investimenti e questi finanziamenti dovranno essere sostenibili da un punto di vista finanziario, cioè avere un free cash flow libero per il loro finanziamento. Quindi diventa dirimente, anche nei confronti dei soggetti che dicevamo prima, un piano di impresa. a maggior ragione quando la nostra situazione tassonomica è non particolarmente brillante, perché sono classificato in un'attività a rischio, comunque non allineata a quelli che sono i livelli stabiliti dai regolamenti europei. Tutto questo comporterà anche degli aspetti molto concreti, se oggi le performance dei manager sono valutate anche in relazione alla loro remunerazione, soprattutto quella variabile, sulla base dei risultati economici o delle capacità di creazione di valore in termini di acquisizione o quant'altro, oggi inizieranno ad esserci anche obiettivi di tipo qualitativo, cioè a che punto sei del tuo piano di transizione, perché? Per un motivo molto semplice, e qui arriviamo alla revisione anche. Il canone principale della revisione è il 570 che ci dice che un'impresa è in continuità aziendale, se per i prossimi 12 mesi rispetto alla data di chiusura dell'esercizio si prevede tutta una serie di cose per cui si può dire che la stessa è in grado di avere conti economici, stati patrimoniali e finanziari sostenibili da un punto di vista classico, da un punto di vista economico-finanziario. Ma io mi domando, un'impresa che al tempo T con zero è tassonomicamente qualificata come a rischio di sostenibilità, ad esempio perché fra cinque anni finisce il suo settore su un binario morto, pensate al settore diesel, anche se oggi siamo di fronte a un'impresa assolutamente virtuosa, con conti a posto, è difficile pensare che al tempo T più uno, T più due, T più tre, un'impresa che oggi è pregiudicata da un punto di vista della sostenibilità sia ancora in continuità aziendale, a meno che abbia messo in atto tutta una serie di azioni contenute nel proprio piano di impresa, o sul processo produttivo, se è quello l'elemento a rischio, o sul sito produttivo, se è quello l'elemento a rischio. Pensate solo alle imprese emiliane, che avevano stabiliti i siti in luoghi che non erano allagati da 30-40 anni e che oggi ogni anno si trovano a subire dei danni enormi, in gran parte non assicurabili, e devono quindi ricollocarsi. Quello è un rischio fisico molto concreto che la banca che ha quel cliente inizia a valutare, ma questo cliente resiste nel tempo, è sostenibile, si riesce a ricollocare ala e finanze per ricollocarsi, ecco come quindi la relazione continuità aziendale e sostenibilità è fondamentale ed avere un assetto organizzativo adeguato per poter valutare non solo i rischi di crisi, ma anche i rischi di sostenibilità, è fondamentale. Questo per dirvi come siamo nell'ambito di una situazione in cui dobbiamo fare delle valutazioni che non siano solo ed esclusivamente di tipo economico-finanziario, ma la componente ISG sta diventando e diventa effettivamente, al di là delle mode, una componente sulle quali le aziende devono porsi delle domande, devono attrezzarsi, perché i loro interlocutori, ripeto, ad iniziare dagli istituti di credito e conseguentemente ai capi filiera, quindi la propria value chain, porranno delle questioni ben prima che giunga l'obbligo, ad esempio per le PMI oggi non ancora esistente, di una rendicontazione di sostenibilità. Chiudo dicendo che c'è un altro elemento che a me interessa particolarmente, l'ho già forse detto in una delle nostre riunioni, ma è un elemento che mi interessa portare alla vostra attenzione. Le linee guida EBA, quindi di un soggetto che non è l'organismo italiano dei principi contabili, e non è l'organismo internazionale o nazionale sui principi di revisione, ma è un soggetto che conta, perché è l'ABI europea con una funzione attribuitela dall'ABCE, che non è quella dell'ABI, cioè non è di un'associazione, ma è quella che dice tu oggi, da oggi, l'istruttoria di fido di Giuseppe Chiappero me la fa in questo modo, e se non supera questi punteggi che io ti do, al di là che poi non c'è ancora il rating, non c'è ancora il greenwash, me ne frega niente, noi dobbiamo salvaguardare il sistema bancario, perché è il primo motore da salvaguardare, l'ABCE su questo è molto rigida ormai, perché dopo il 2008, tra l'altro anche per fortuna, controlla i sistemi bancari, tu il credito lo dai in quello, e se prima ero interessato a sapere, ma tuo papà la metterebbe una firmetta, o hai una casa da dare in ipoteca per quel finanziamento, adesso le banche sono stufe di essere diventate delle grandi immobiliari, e hanno iniziato a dire, ma questa azienda riuscirà, Giuseppe Chiappero, riuscirà a rimborsare il prestito, avrà le condizioni per farle, nell'ambito di queste condizioni si porrà il tema anche se è nella linea giusta della transizione ambientale e sociale, perché ad esempio un'azienda che inizia a avere una statistica infortuni molto importante, evidentemente al di là della transizione ambientale è un'azienda che mi preoccupa, un'azienda che ha un'interdittiva antimafia mi preoccupa, un'azienda che ha un conclamato falso in bilancio o comunque ha un procedimento di falso in bilancio mi preoccupa. Guardate che sotto questo aspetto ci siamo andati molto vicini, perché grazie all'attivazione anche personale mia e della commissione che ho l'onore di presiedere a livello nazionale c'è stato un pressing fortissimo perché nel decreto di applicazione della CISRD venisse spunto l'articolo che equiparava la quota parte di bilancio della relazione sulla gestione riferita alla sostenibilità, quindi il cosiddetto report di sostenibilità che voi sapete ormai è essere un report integrato nel bilancio, alle altre informazioni sensibili al rischio delle false comunicazioni sociali. Ora, voi capite che siamo in una fase di prima applicazione di fronte a 12 principi di rendicontazione fatti da EFRAC sui quali c'è ancora moltissimi dubbi nonostante le tre guidance che sono già uscite, eccetera, 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 evidentemente quello era uno spauracchio molto molto forte. Ora, chiudo veramente dicendo, ma c'è un elemento che ci deve far riflettere sotto alcuni aspetti. Allora ho detto EBA che ho rappresentato sinteticamente il peso, il potere che ha, parliamo proprio di potere specifico, dice che l'arco temporale in cui io devo guardare la sostenibilità e quindi la continuità di un'impresa è dieci anni. Ora noi come sindaci siamo ben felici che esista l'ISA 570, perché dopo 12 mesi me la guardo bene, al tredicesimo mese succeda un po' quel che vuole. Io temo che questa contraddizione prima o poi cada, cade perché è il mercato che lo chiede e la distanza tra il diritto dell'impresa, il regolamento dell'impresa e l'economia dell'impresa è ormai abissale, è ormai abissale. Parla di dieci anni. Ma d'altronde abbiamo due casi importanti sui giornali, non faccio il caso di intesa per questioni personali, essendo il presidente dell'organismo di vigilanza, ma tutti avete letto i giornali, la caduta dell'eventuale valore di un'azienda si misura, normalmente si misurava guardando gli utili, le perdite, quindi il patrimonio netto. Oggi quando tu valuti un'azienda come perito, quando tu vendi l'azienda a Paolo Vernero a Giuseppe Chiappero e ti lascio la parola, il patrimonio netto 100 la vendo a 1000, cos'è 900? Sono intangibles, in cui c'è tante cose, sono imprevede, c'è anche la reputation brand in termini ISG. Se un'azienda come Armani, che è un'azienda compliant sotto tutti i profili da un punto di vista formale e anche sostanziale, in termini ISG e a livelli di eccellenza, scivola su una vicenda 231, che a tutti nota, bambini che lavorano in Egitto per fare i vestiti, non devo dirlo, lo sapete, e si becca addirittura l'amministratore giudiziario con un'incriminazione 231 pesantissima, scivolando in pieno su che cosa? Sul fattore S dell'acronimo ISG. Attenzione, si sovrappongono ai due piani, ecco perché la nostra commissione sta modificando il nostro gruppo di lavoro la denominazione, perché i reati ambientali sono i reati più contestati in Italia e guarda caso sono la lettera E dell'acronimo ISG e i reati sulla salute e sicurezza del lavoro, lettera S dell'acronimo ISG vengono a ruota e lì siamo in pieno nella S. Questi due fattori hanno fatto sì che ci sia stato un crollo del valore del titolo in borsa e voi sapete tutti che quella azienda era in trattativa avanzata da parte di importantissimi fondi di investimento e il valore è notorio essere crollato del 40-50%. Cos'è quel 40-50%? È il reputation brand ed è un intangible. Ma allora io mi domando, ma lo domando a voi colleghi non ho la risposta e lo domando a voi che siete molto più bravi di me, ma noi che dobbiamo redigere secondo i canoni che ci hanno insegnato i nostri maestri i bilanci sulla base di una situazione patrimoniale veritiera e corretta. Quando abbiamo un patrimonio netto di 100, in base di un bilancio fatto con tutti i principi contabili più corretti del mondo e sappiamo benissimo che l'azienda il suo patrimonio reale vale mille, ma stiamo ancora seguendo i canoni tradizionali e sacrosanti secondo cui si deve compilare secondo verità e correttezza ed esporre secondo verità e correttezza un bilancio, una situazione patrimoniale del bilancio e vi lascio con questa domanda che è una riflessione, ma il nostro è anche un gruppo in cui si può anche riflettere insieme, non si deve necessariamente dare solo delle indicazioni o assumere, ma ogni tanto poniamoci anche delle domande perché il mondo intorno a noi sta un po' cambiando e quindi è anche giusto prepararci ed essere consapevoli, poi non abbiamo risposto su questo, se non invitare, cosa che stiamo facendo a tutti i livelli anche come Ordin Torino, gli organi competenti a prendere atto che esiste questa cosa che si chiamano intangibles e che hanno un valore obiettivamente ormai prevalente rispetto ai intangibles e quindi non possono più essere non prese in considerazione e tornando ai nostri fattori ESG hanno un grossissimo peso, vi ho fatto due esempi abbastanza significativi, ho parlato troppo, mi scuso, lascio la parola al nostro Giuseppe Chiappero che ci intrattiene sull'evoluzione normativa che è sempre più tumultuosa, quindi ogni intervento suo è sempre molto preciso e puntuale e estremamente interessante. Ti chiederei di stare nei 30-35 minuti in modo da dare poi la parola a Stefano che invece ci intratterà sulla parte della revisione per poi sentire eventuali vostre domande. Io mi scuso già sin d'ora se alle 6 e mezza dovrò fuggire per rappresentare sempre il nostro ordine, un'altra cosa. Te Giuseppe. Bene, grazie Paolo per l'introduzione, spero di essere all'altezza delle aspettative rispetto a quello che diceva Paolo sul contenuto della mia, delle nostre relazioni. In realtà noi abbiamo voluto concentrare questo incontro proprio sugli aspetti relativi agli effetti che la normativa di recente introduzione per l'attuazione della direttiva CSD nel nostro ordinamento ha sulla disciplina della revisione legale. Quindi queste due relazioni, la mia e poi quella del collega che ringrazio, di Stefano De Rosa, si incentreranno proprio su questo ambito, su questa tematica. Io come amo fare, quando ci ritroviamo anche come nostro gruppo di lavoro, bilancio sociale, di sostenibilità, ci fa piacere comunque anche ricordare quello che accade proprio in questi giorni, quindi a livello di pillola di attualità. Ecco, per esempio, mi limito proprio a questo, a segnalare che solo pochi giorni fa c'è stato un segnale della comunità internazionale che è passato un po' in sordina, ma che in realtà è una portata storica, perché comunque ben 143 paesi in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ha confermato in buona sostanza quelli che erano e sono gli impegni presi nel 2015 nell'Accordo di Parisi, cioè lo stesso anno in cui poi, sempre in sede di Nazioni Unite, sono stati definiti i famosi SDGs, che ritroviamo in gran parte delle dichiarazioni non finanziarie dei bilanci di sostenibilità di cui parliamo. Quindi volevo segnalare questo, che nonostante le incertezze dovute anche alla nuova Commissione Europea e quant'altro, comunque la comunità internazionale va avanti in questa direzione, e quindi ha preso questi impegni, il Summit of the Future, e si prepara poi alla prossima conferenza delle parti di Baku, dove addirittura si parla di anticipare una parte degli obiettivi di neutralità climatica di 10 anni, quindi sarà uno dei dibattiti più accesi in sede di prossimo mese, in sede di COP29 a Baku. Ma fatta questa premessa, come vi ho anticipato nell'incontro odierno, vediamo di capire anche operativamente quali sono gli effetti di questa direttiva, quindi del decreto che vi ha dato attuazione, 125 del 2014, sulla disciplina della revisione legale dei continuali consolidati. Qual è il perimetro, qual è il timetable? Sono tutte domande che mi rendevo conto anche prima di iniziare, parlando con alcuni di voi, ci stiamo facendo. Parleremo, lo farà soprattutto Stefano, di questa nuova qualifica, che io la definisco tale, una qualifica professionale, una competenza professionale, quella del revisore della sostenibilità di cui tanto si parla, e del relativo sistema di abilitazione, soprattutto nella fase transitoria. Così come vedremo proprio come queste norme impattano per tutti noi sul testo, sui contenuti della relazione di revisione, cioè sia di quella specifica introdotta e snovo che riguarda la rendicontazione di sostenibilità, ma anche su quella che dovremmo predisporre riguardante il bilancio economico-finanziario. Avrete notato tutti che questo incontro, così come altri che lo hanno preceduto, proposti dal nostro osservatorio, ha valenza anche ai fini della formazione del revisore legale. E questo è un aspetto di cui poi parlerà più tecnicamente Stefano, perché già dal febbraio scorso, come vedete, una circolare della ragioneria generale dell'estate, dello Stato, già collocandosi in questa evoluzione, aveva previsto che già dall'anno 2024 fosse aggiunto una materia specifica di formazione, il motivo per cui siamo qui oggi, proprio specifica sulla revisione delle informative di sostenibilità. E quindi è la materia D ai cui fini questo corso è valido per la concessione dei crediti formativi. Velocissimamente, qual è stato l'iter? Lo sappiamo perché ogni volta che ci siamo incontrati in questo gruppo, l'ultima volta è stato il primo luglio scorso, quali sono stati i passaggi che hanno portato poi al recepimento della direttiva? Non li ripercorro, andiamo al punto, a quello che è accaduto solo poche settimane fa, quindi seguendo quella che era l'indirizzo della legge di delegazione europea, la numero 15 del 21 febbraio, il 10 settembre scorso, ciò doveva avvenire il 6 luglio, poi c'è stata una proroga di tre mesi, visto che l'iter parlamentare è stato più lungo del previsto, ma era già comunque previsto nei gangli della normativa che si potesse usufruire di una proroga di sei mesi. Quindi il 10 settembre, era quel termine ormai prorogabile, è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la norma di attuazione, quindi decreto 125 del 2024, che è entrato in vigore il 25 di settembre scorso. Questo decreto, come sappiamo, vado veloce perché queste cose ormai ci sono note, introduce l'obbligo della rendicontazione di sostenibilità per determinate categorie di imprese, definendone contestualmente le classi dimensionali, cioè il legislatore ha colto l'opportunità con questo decreto di andare anche a recepire gli effetti di un'altra direttiva, che è la 2775 del 2023, che ha modificato, come sapete, le classi dimensionali che definiscono a livello europeo quali sono le imprese di grandi dimensioni, quali sono le piccole e medie imprese, e questo ha un effetto sia sul perimetro della rendicontazione di sostenibilità, come vedremo dopo nel dettaglio, ma anche a prescindere dal tema sostenibilità, di quelle che sono, e c'è un articolo apposito in questa norma che lo prevede, le soglie che se non superate consentono di predisporre i bilanci in forma abbreviata, in forma micro, consentono di non depositare il bilancio consolidato. Quindi attraverso questo decreto non ci sono effetti soltanto sulla materia della sostenibilità, ma effetti anche molto più generali dettati dal recepimento di questa direttiva, che ha modificato, per tenere conto, come faccio intuire, dei fenomeni inflattivi, le classi dimensionali delle imprese. Questo decreto istituisce la figura del revisore della sostenibilità, tracciandone, come vedremo dopo nella relazione successiva, il sistema di abilitazione, di formazione, di iscrizione al registro, e definisce, questo un tema già toccato prima dal dottor Bernero, il sistema anche di sanzioni pecuniarie e amministrative per gli organi di governo e di controllo, un tema di rilevantissime interesse che è andato appunto in questa direzione, cioè nella direzione delle sanzioni di tipo amministrativo e pecuniario e non quelle di richiamo espresso agli illeciti del falso bilancio. Recepisce, come ho già detto, appunto lo leggete anche nella slide, questa direttiva di adeguamento delle soglie dimensionali. Questo decreto di cui parliamo quest'oggi, poi con riferimento specifico al sistema della revisione legale, ha avuto un iter che qui è ripilogato in questa diapositiva. C'è stato un periodo di consultazione un po' sorpresa, è stata un'iniziativa della ragioneria generale dello Stato, ma in quel mese di consultazione sono accadute molte cose. Io qui ho ripreso le più importanti, sono tutte ovviamente documentazioni che se volete potete consultare sui vari siti istituzionali, ma quelle più rilevanti sono state le osservazioni di Assonime che hanno ripreso un position paper precedente, che hanno messo in luce tutta una serie di criticità. C'è stata una lettera congiunta di A, B, Agna, Assirevi Assonime e anche del nostro Consiglio nazionale nell'aprile scorso. E poi soprattutto, come ci ha ricordato prima Paolo Vernero, c'è stata un'audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato del nostro Consiglio nazionale, in cui si è fatto tesoro, devo dire, degli input che sono arrivati, come detto prima, dalle commissioni degli ordini professionali per mettere in luce delle criticità che riguardavano proprio noi, cioè il ruolo del commercialista rispetto a questa tematica. Ne parliamo subito dopo un pochino più nel dettaglio. E siamo quindi arrivati, come vedete, il 10 settembre alla pubblicazione. Vorrei riprendere appunto velocemente qual è stato il tema principale di questa audizione, perché queste modifiche hanno consentito di definire uno schema di abilitazione e di formazione e di qualificazione professionale nel tema della sostenibilità, che riguarda specificamente le competenze che noi come commercialisti abbiamo partendo dall'ordinamento professionale. Io ricordo sempre che vent'anni fa, quando è stato appunto promulgato il nostro ordinamento professionale, si era già previsto che fosse competenza specifica del dottore commercialista, vedete virgolettato, la redazione e asseverazione di informativa ambientali, sociali, di sostenibilità di imprese e pubblici privati. Quindi già vent'anni fa questa è una materia tipica della figura del commercialista. Oggi, per le cose che stiamo dicendo, i tempi sono maturi perché questo diventi un valore e un'opportunità, ritengo. Un'altra cosa che amo ricordare all'inizio di questi nostri incontri è che il tema della rendicontazione di sostenibilità è un tema di accounting. Può sembrare una provocazione, ma non è così, perché come vedete rappresentato in questa diapositiva, queste informative di cui oggi parliamo poi dal punto di vista del revisore, sono informative che si innestano nella direttiva contabile. La direttiva contabile aveva sostituito la direttiva 51 nel 2003, aveva previsto, attraverso una modifica all'articolo 24-28 del Codice Civile, che nelle relazioni sulla gestione si desse anche conto di informativa ambientali e di personale. Lo sapete perché poi sono passati tutti questi anni e questo articolo 24-28 da questo punto di vista non è cambiato. Quindi, innestandosi in questo percorso tracciato, vedete che ci sono stati degli innesti di cui i due più importanti, per non tediarvi troppo a lungo, sono stati proprio nel 2016, scusate, nel 2014 la direttiva 95, la non-financial directive, che ha introdotto attraverso il decreto legislativo 254 del 2016 l'obbligo della rendicontazione non finanziaria. Questo è avvenuto attraverso una modifica all'accounting directive. Sapete bene che questa prima fase si è declinata nel nostro paese in un numero abbastanza contenuto di imprese, cosiddetti enti in interesse pubblico, circa 200, che hanno dovuto o voluto, perché era prevista anche la forma volontaria, per disporre le dichiarazioni non finanziarie. Oggi cosa è accaduto? Con la direttiva Cesar di la 2775 del 2023, sempre andando a modificare, ad ampliare, se vogliamo, il perimetro della rendicontazione non finanziaria, andando verso la rendicontazione di sostenibilità, sempre nella canta in directive sono stati introdotti questi obblighi di cui parliamo oggi e che sono stati oggetto dell'atto di recepimento del decreto legislativo 124. Per questo non è una provocazione dire che parliamo di bilancio, perché l'ottica, come diceva prima anche il collega, è quella di integrare, ora è diventato un obbligo prima eropozionale, le informative di sostenibilità all'interno della relazione sulla gestione. Le novità di questa CSRD, quindi la direttiva 2464 che abbiamo visto prima e che è stata orora recepita, non sto a leggerle tutte, riguardano anche, e l'ho evidenziato in verde, il tema dell'assurance, perché per la prima volta il legislatore europeo ha previsto che questo tipo di informative fossero anche oggetto di assurance. Prima non era così, la direttiva del 2014 non lo prevedeva, era stato il legislatore italiano col decreto 254 a prevederlo, nella forma, come sappiamo, della negative assurance, limited review e così via. Oggi invece già a monte nella direttiva è previsto l'obbligo di assurance e vi segnalo che ad oggi soltanto il nostro paese, da pochi giorni come abbiamo appena detto, e la Francia e Spagna lo hanno introdotto nei propri ordinamenti. Un'altra novità rispetto al regime previgente è che questa richiesta di assurance, nei termini che poi vedremo, riguarda anche i regolamenti che hanno un impatto, come sapete, diretto negli ordinamenti dei Paesi membri e in particolare di quella tassonomia di cui si è detto prima, che prevede una serie di disclosure, articolo 8, che sono sostanzialmente dei indicatori di tipo finanziario, che riguardano però la quota delle attività economiche in termini di sostenibilità, cioè quanto pesa la sostenibilità in termini di ricavi, di investimenti, di spese operative, anche questo disclosure, che devo dire è complessa perché deve essere presentata secondo dei framework definiti, è oggetto anche questa di assurance, mentre prima, come aveva specificato Sirevi nei suoi documenti di ricerca, ne veniva esclusa. Quindi nelle DNF, che contenevano questo tipo di informativa, le relazioni di revisione, specificamente con un apposito paragrafo, escludevano l'informativa articolo 8. Oggi invece ci ritroviamo anche questa. E quindi naturalmente queste novità passano tutte attraverso una modifica alla direttiva cosiddetta audit, la direttiva 43 audit, che è stata modificata dalla CSRD. Quindi io adesso vado velocemente, perché voglio rimanere nei termini che mi sono stati dati, richiamo soltanto un passaggio velocissimo della CSRD stessa, voi sapete che queste direttive sono tutte ovviamente consultabili in tutte le lingue dei Paesi membri, quindi questa è la versione italiana, vedete che prevede all'articolo 34 proprio l'obbligo di revisione, e che questa revisione sotto forma di attestazione, che si traduce poi in un'attestazione sulle informative di sostenibilità, può essere svolta dal revisore legale o dalle imprese di revisione contabile. E nella direttiva si parlava di un livello di sicurezza, quindi quello che tecnicamente diciamo di scope limitato, quindi di assurance limitata, e veniva già specificato, come vi dicevo prima, già nel testo normativo della direttiva europea, che questa assurance, questa attestazione riguardasse anche l'osservanza dell'articolo 8 del regolamento tassonomia. La direttiva audit, che è la cosiddetta, che è la direttiva 43 del 2006, riprende questi aspetti e quindi va più nel dettaglio nell'andare a definire un po' il quadro in cui poi è andato ovviamente a collocarsi il decreto attuativo. E quindi, non sto adesso a leggere questi passaggi, però vi segnalo che all'articolo 28 bis della direttiva audit modificata dalla CSD, troviamo appunto questo tipo di indicazioni su quelli che sono i contenuti dell'attestazione che il revisore legale, piuttosto che la società di revisione, devono rilasciare sulle informative di sostenibilità. Vi segnalo soltanto che è prevista anche dal testo della direttiva audit che questa attività di revisione, cioè quella che specificamente riguarda le informative di sostenibilità, dovrà essere svolta secondo dei principi di revisione che ad oggi non ci sono ancora, che la norma prevede vengano emanati entro il 1 gennaio 2026 con un livello di sicurezza limitato, quindi come scope limited audit, e non oltre il 1 gennaio 2028 con un livello di sicurezza ragionevole. Quindi è già previsto nel testo normativo che si parta quest'oggi da una profondità, diciamo così, dell'attività di revisione simile a quella che veniva seguita per le dichiarazioni non finanziarie, per arrivare però dopo pochi anni ad un regime molto più simile a quello di un full audit, perché diventa un assurance a tutti gli effetti secondo appunto queste indicazioni, quindi un livello di sicurezza ragionevole. E qui in questa slide ho di nuovo ripreso appunto questo passaggio. Vi segnalo, lo vedete qui evidenziato in verde, che il decreto non prevede, ecco siamo passati, scusate, appunto al livello del decreto di recepimento, quindi il decreto di recepimento 125 del 2024, andando a riprendere il testo normativo della direttiva audit che vi ho richiamato prima, ha confermato anche a livello quindi del nostro ordinamento questo processo che vi ho detto prima, cioè si parte dal livello di sicurezza limitato per arrivare poi a un livello di sicurezza ragionevole e prevede, ha previsto anche che non sia per il momento esercitato nel nostro paese quello che era un'opzione prevista dal testo della direttiva europea, cioè che questo ruolo di revisione delle informative di sostenibilità potesse essere svolto non soltanto dal revisore legale come abbiamo detto o dalla società di revisione legale, ma anche da altri soggetti che vengono definiti prestatori indipendenti di servizi di attestazione. Il legislatore italiano ha previsto in questo decreto di non esercitare questa opzione rimandando diciamo una valutazione ulteriore di questo aspetto dopo primi tre anni di applicazione della norma. Questo sostanzialmente si lega al fatto che ad oggi nel sistema di disciplina legale che vige nel nostro paese ci sono dei requisiti molto stringenti di qualità del lavoro che riguardano direttamente appunto la figura di chi è scritto a registro della revisione legale. Questo è una delle considerazioni ma comunque per il momento quindi questo tema riguarda noi commercialisti in quanto revisori legali riguarda le società di revisione legale. Per entrare più nei dettagli di quanto potrò fare io nel poco tempo che ho a disposizione ma è uno strumento che ritengo molto utile ed operativo vi segnalo questa pubblicazione che è stata messa a disposizione di tutti noi il giorno prima dell'entrata in vigore del decreto 125 ed è un documento che va molto nel dettaglio e che fa vedere con delle tabelle sinottiche come si sono modificati i testi delle varie norme che sono state modificate in conseguenza dell'attuazione della CSD. Vi segnalo che l'80% delle modifiche riguardano il regime della revisione legale perché mentre prima con le DNF il decreto 39 del 2010 non era stato toccato quindi tutto quello che riguardava anche l'esigenza di assurance era tutto contenuto nei pochi articoli del decreto 254 questa volta poiché la revisione è prevista già a monte nella direttiva europea è andata di riflesso a toccare in modo significativo devo dire in modo veramente almeno per quello che è stata la mia sensazione personale più di quanto avrei pensato è andato a stravolgere in qualche modo proprio il decreto 39 del 2010 che disciplina la revisione legale questo documento farà vedere più nel dettaglio quali sono state le singole modifiche io oggi mi concentro ma poi lo farò lo farà più di me ancora il collega che mi seguirà su questi tre articoli che sono stati modificati cioè il decreto 125 ha toccato principalmente dunque in questi tre articoli prevede le modifiche più significative e che riguardano l'articolo 8 del decreto 125 riguardano appunto l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte del revisore della sostenibilità l'articolo 9 elenca tutte le modifiche al decreto legislativo 39 sulla revisione legale e l'articolo 10 descrive il sistema di responsabilità e di sanzioni secondo quel principio che vi ho detto prima per quanto riguarda l'articolo 8 vi segnalo soltanto che viene prevista che l'attestazione del revisore della sostenibilità riguardi tre aspetti è importante che lo prendiamo in considerazione sin dall'inizio cioè il primo è molto simile a quello che si faceva sulle dnf cioè il revisore deve attestare la conformità della revisione di sostenibilità alle norme del decreto il decreto a sua volta richiama i principi srs e quant'altro però diciamo che il primo aspetto è una conformità una verifica della conformità sulle sulla rendicontazione di sostenibilità il secondo aspetto che è in divenire è previsto dalla norma ma su questo ci saranno delle ulteriori norme che non sono ancora predisposte si dovrà attestare anche l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità perché in questo parallelismo col bilancio anche questo tipo di informative dovranno essere rese in formato unico europeo linguaggio xbrl così via e il terzo aspetto abbiamo già richiamato ve l'ho già richiamato prima anche la conformità agli obblighi dell'articolo 8 regolamento tassonomia l'incarico può essere svolto o dallo stesso revisore legale del bilancio incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio lo prevede il comma 2 oppure può essere svolto da una società di revisione ovviamente purché la relazione di attestazione sia firmata da un revisore della sostenibilità e anche qui vengono ripresi di nuovi due livelli di sicurezza si parte dal limitato e si arriva al livello di sicurezza ragionevole per quanto riguarda le modifiche all'articolo 9 considerato che vi ho rinviato al documento del consiglio nazionale mi limito a questa slide di sintesi nelle slide che lascerò poi a disposizione quindi quelle successive ci sono anche più dettagli adesso per ragioni di tempo mi limito a questa sintesi per ricordare appunto che l'articolo 9 del decreto 125 è quello che contiene le modifiche al decreto 39 e quindi va a disciplinare gli aspetti di cui ci parlerà dopo il dottor de rosa in particolare i requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di assurance le modalità di abilitazione e quello che è il regime transitorio di cui dopo parliamo disciplina le modalità di conferimento dell'incarico di assurance distinguendo in base alla natura o meno di interesse pubblico piuttosto che di ente sottoposto a regime intermedio disciplina le modalità di svolgimento dell'incarico attraverso i principi di assurance di etica e di indipendenza in modo del tutto simile andando a integrare i singoli articoli a quelli che vigono per le revisioni del bilancio d'esercizio così come i contenuti della relazione di attestazione specifica della rendicontazione di sostenibilità va poi ad integrare nei capi 7 e 8 tutti gli aspetti che riguardano competenze funzioni poteri di vigilanza e sanzionatori sia del mef sia della consob con riferimento all'attività di revisione salto come vi ho detto le modifiche di dettaglio mi vi porto l'attenzione e sto arrivando alla conclusione a questo quadro che ho predisposto un po di sintesi si un quadro di sintesi lo vediamo insieme ho provato a mettere a confronto so che anche in sala qualcuno di voi è coinvolto nella revisione di dichiarazioni non finanziarie alcuni di voi lo sono di noi lo sono stati e quindi ho provato a chiedermi cosa cambia poi operativamente tra l'attività di revisione con scope limitato delle dichiarazioni non finanziarie previste dal decreto 254 che è preciso è stato abrogato dal decreto 125 quindi parliamo di normativa previgente ok quindi decreto 254 che non aveva modificato il decreto 39 l'ho voluto mettere in evidenza a chi assegnava il compito della revisione anche in quel caso al revisore oppure ad una società di revisione legale viene riproposto anche col decreto 125 con qualifiche apposite si parla quindi di revisore della sostenibilità e poi c'è questa possibile estensione a prestatori indipendenti dopo i primi tre anni il livello di revisione cosiddetto scope limited oggi si parte dallo stesso livello per arrivare a reasonable i principi su questo oggi non abbiamo il tempo non è diciamo previsto nel programma ma ci sarebbe da fare un convegno opposta quali sono i principi di revisione prima che vengono emanati quelli che vi citavo prima previsti dalla direttiva audit sono i principi isai 3000 revised per quanto riguarda le informative diciamo consuntive retrospettive e isai 3400 revised per quanto riguarda le prospettive for one looking che sono molto presenti nei principi srs aziendali della sostenibilità e quindi al momento le revisioni delle dnf sono state fatte tutte richiamando questi principi internazionali a tendere ci sarà un principio ad hoc che in fase di elaborazione che si chiama issa 5000 che attualmente però non prevede e quindi dovrà essere integrato rispetto alle bozze in circolazione un'estensione alla tassonomia al formato esef che sono invece aspetti che il nostro legislatore come abbiamo visto ha preso in considerazione i principi europei saranno appunto ad adottarsi come dicevo prima entro il primo gennaio nel frattempo si fa riferimento ancora adesso a questi principi ormai un po datati isae e a quelli che sono in fase di elaborazione isa italia da parte delle apposite commissioni nazionali scusate c'era ancora lo scope quindi parlavamo della tassonomia come oggetto della revisione scusate parlavamo della dnf della dichiarazione non finanziaria che escludeva la tassonomia oggi parliamo della rendicontazione di sostenibilità inclusa la tassonomia la marcatura xb rl il tipo di relazione prima era quasi sempre perché era opzionale separata dalla relazione articolo 14 quindi della relazione di revisione oggi è separata necessariamente e la relazione di revisione come vedremo dopo viene modificata per quanto riguarda le responsabilità è molto importante all'articolo 10 del decreto 124 perché stabilisce due principi fondamentali che erano presenti già anche nelle responsabilità che riguardavano le dichiarazioni non finanziarie distinguendo bene quelle che sono le responsabilità in capo agli amministratori organo di governo di garantire che le informative di sostenibilità siano fornite in conformità al decreto rispetto alle responsabilità del collegio sindacale quindi organo di controllo di vigilare sull'osservanza del decreto e di riferirne nella relazione annuale all'assemblea vi segnalo che è stato previsto proprio per tener conto della novità intrinseca della norma e delle difficoltà presumibili di applicazione delle delle criticità da affrontare nel primo periodo di applicazione che nei primi due anni dall'entrata in vigore del decreto vi sarà un regime attenuato che io ho definito attenuato delle sanzioni amministrative pecuniarie che vengono combinate dalla consob in quanto la consob come sapete ai sensi dell'articolo 193 del testo unico della finanza è titolare dei poteri di vigilanza di indagini e sanzionatori sulle relazioni finanziarie poi sapete anche che nelle società quotate la relazione sulla gestione è inclusa nella relazione finanziaria per questo motivo il fatto che obbligatoriamente le informative di sostenibilità entrano a far parte della relazione finanziaria la consob automaticamente stende il suo potere di vigilanza e sanzionatorio sulle informazioni sulle dichiarazioni di sostenibilità in questi primi due anni le sanzioni sono prevedono delle soglie per quanto riguarda l'organo di governo di 150 mila euro 2 milioni 500 mila seconda del tipo di sanzione quello che a noi interessa oggi per quanto riguarda il revisore legale e la società di revisione sono stati posti dei tetti ad euro 125 mila per le prime e 50 mila per il revisore è interessante appunto prendere in considerazione questo era il mio ultimo tema che dovrei affrontare quest'oggi velocemente quello del perimetro e dei tempi di applicazione è un tema che si affronta spesso quasi ogni giorno ormai anche sulla stampa specializzata si trovano delle tabelle che evidenziano chi sono i soggetti che sono toccati da questa normativa sia a livello di predisposizione che poi anche di ovviamente di assurance e di asseverazione per poterlo fare in modo puntuale ma questo lo troverete nelle slide bisogna partire e questo lo tratto proprio da quel documento del nostro consiglio nazionale da quali sono le nuove soglie che definiscono la impresa di gran o il gruppo di grandi dimensioni che definiscono la piccola media impresa perché poi queste sono richiamate specificamente in questa diciamo progressione di applicazione della norma quindi la prima fase è già in corso perché come sapete già da quest'anno quindi dal primo gennaio 24 sono soggette alla norma le grandi imprese che sostanzialmente erano le stesse che erano già tenute alla dichiarazione non finanziaria col sistema previgente quindi quelle che occupavano più di 500 dipendenti nell'esercizio e superavano almeno uno dei limiti rappresentati dal fatturato e dal totale attivo però questi due come vedete sono aumentati il fatturato da 40 sale a 50 milioni il totale attivo da 20 a 25 ed erano anche tenute e quindi lo sono già con le nuove norme tenute da quest'anno le quotate le banche le imprese di assicurazione e riassicurazione che siano altresì imprese madri di gruppi di grandi dimensioni comunque diciamo che in sintesi quest'anno sono poche le imprese che stanno già predisponendo i bilanci o che dovranno predisporli il prossimo anno ma secondo le nuove normative vi segnalo ma questo lo sappiamo che con le dnf le società l'ho già detto prima toccate in italia erano meno di 200 144 per l'esattezza quelle che l'hanno fatte di quotate quindi veramente poche ed erano anche poche a livello europeo circa 11.000 dal primo gennaio 25 questo secondo me è l'aspetto che ci deve interessare di più fra poche settimane come ho scritto nella mail comandate i membri del gruppo comunque migliaia di imprese nel nostro paese perché le circa 200 di prima nel nostro paese diventano dalle stime fatte circa 7 8 mila in europa circa 50 mila i numeri cominciano a essere importanti queste imprese di grandi dimensioni del primo gennaio 25 devono considerare questa norma e quindi dovranno predisporre il bilancio 2025 con all'interno della relazione sulla gestione le informative di sostenibilità si parla di imprese di grandi dimensioni però la soglia del personale è dimezzata e per questo che si aumenta significativamente quindi non sono più 500 dipendenti ma sono 250 quindi noi cominciamo a pensare ai nostri clienti che rientrando in questi parametri quindi che supereranno questa sembra un po una contraddizione perché questo superamento si dovrà verificare alla fine dell'esercizio quindi se alla fine dell'esercizio supereranno alla data del bilancio almeno due di questi tre parametri totale attivo 25 fatturato 50 numero medio dei dipendenti qua c'è mi scuso c'è un errore e 250 nella slide lo vedo adesso e 250 quindi se supereranno almeno due di questi tre parametri sono soggette già dal dal prossimo esercizio vado veloce cosa succede l'anno dopo quindi dal primo gennaio 26 si estende questo obbligo alle pmi ma soltanto alle pmi quotate e attenzione soltanto quelle quotate in mercati regolamentati e quindi non saranno tantissime perché in italia non sono tantissime le società quotate di queste dimensioni anche loro saranno soggette a questo obbligo ci saranno anche gli enti bancari piccoli non complessi sono escluse le società micro in ogni caso e le imprese di assicurazione e riassicurazione allora è previsto però dalla norma europea ripresa anche attraverso un rinvio normativo anche dal nostro legislatore per le pmi quotate la possibilità di rinvio fino al primo esercizio che inizia dopo il primo gennaio 28 quindi in sostanza un rinvio di due anni che però dovrà essere motivato nelle relazioni sulla gestione se si deciderà di optare per questa possibilità del rinvio infine qui vado veloce naturalmente previsto poi dal primo gennaio 28 che questo obbligo si estenda anche ai gruppi cioè alle società di paesi terzi sostanzialmente quelle che fanno parte di gruppi che però generano nel nostro paese più di 150 milioni di euro di ricavi e che abbiano almeno una cosiddetta subsidia rimpresa figlia che ricade sotto la normativa sia sd oppure una branch succursale per detto in italiano con fatturato di almeno 40 milioni di euro quindi diciamo che a determinate condizioni che sono previste dall'articolo 5 del decreto 124 anche le imprese di paesi terzi velocissimamente ho trovato interessante dello segnalo il rapporto consob uscito pochi giorni fa sulle dnf 2023 perché la consob me lo conferma anche prima un collega è molto puntuale nell'esaminare le dnf erano poche che ha ricevuto fino all'anno scorso cioè fine bilanci dell'anno scorso secondo la previgente normativa ora bisognerà è interessante perché io vi segnalo solo tre aspetti per esempio in questa prima tabella vediamo che hanno pubblicato appunto la dnf su 202 società quotate 144 sono state esentate alcune per motivi dimensionali altre per motivi di gruppo interessante però che questa dnf presentata come vedete da queste 144 società nel 2023 è stata nella gran parte dei casi inclusa in una relazione separata della relazione sulla gestione questo è già un primo elemento di valutazione vuol dire che da quest'anno visto che queste 144 sono sicuramente obbligate quest'anno con le nuove regole quindi non potranno più pubblicarla come hanno fatto in gran parte fino all'anno scorso con documento separato ma la dovranno inserire nella relazione sulla gestione altro aspetto molto interessante devo dire fonte anche di dubbi operativi che poi riepilogo vedete che il 100 per cento di queste 144 imprese quotate ha predisposto le dnf con i g rai con i principi global emanati dalla global reporting initiative che non sono ovviamente gli srs perché non c'erano ancora ma oggi l'srs è diventato principio di rendicontazione obbligatorio e unico quindi il passaggio dai principi gerai agli srs è un aspetto da valutare interessante sul quale ovviamente il gerai e anche l'efrac si sono già attivati con degli accordi di interoperabilità di cui però non conosciamo ancora i svolti applicativi mi limito a dire questo su questa diapositiva vedete anche è interessantissimo ci sarà su questo tema domani un convegno della fondazione ibr hanno contestualmente predisposti il loro report secondo il modello del report integrato altri hanno richiamati i principi sasb oggi confluiti nella frs foundation e molti hanno richiamato le raccomandazioni del tcfd in sede financial stability board infine l'ultima tabella che vi presento vedete che di queste 144 in 130 casi la revisione del limitata della dnf è stata fatta dallo stesso soggetto incaricato della revisione del bilancio sono quindi pochi casi in cui invece il incarico è stato svolto da un revisore legale e tra questi vi ricordo quello che è stato qui a presentare la propria testimonianza aziendale quello della più della più grande credo azienda di trasporti o tra le più grandi italiane gtt che ha soggettato la propria dichiarazione non finanziaria fatta in via volontaria ad un revisore legale nell'ambito di un accordo tra il nostro ordine e gli spin off del dipartimento di management come abbiamo visto qui in questa sala in ultimo nel febbraio scorso questo è stato un'esperienza e lo è tuttora positiva su cui possiamo inserirci perché comunque come abbiamo visto la norma va nella direzione di valorizzare le competenze della figura del commercialista e di conseguenza del revisore legale ci sono alcuni dubbi poi il dottor de rosa ne vincerà altri ma vi ho già anche detti prima cioè mi chiedo ad esempio se prima la dichiarazione non finanziaria poteva essere svolta e lo prevedeva la norma in via volontaria a tutti gli effetti comportava anche l'assoggettamento alla vigilanza consob oggi il decreto 124 non prevede più questa opzione perché l'efrag ha sviluppato dei principi ad hoc però infatti con un'impostazione diversa che potranno essere utilizzati in via volontaria dalle piccole e medie imprese o micro non entra che non rientrino nel privo della sia sd questo quindi è un tema su cui faremo delle valutazioni insieme perché è un dubbio oggettivo che si pone l'altro l'ho già detto prima e capire a livello operativo come sarà la transizione dai ge standard che come abbiamo visto riguardano il 100 per cento delle società quotate che fino al bilancio 2023 hanno predisposto delle informative non finanziarie abbiamo già detto che la dnf non modificava il regime di revisione legale che viene invece fortemente impattato con la nuova norma e abbiamo visto questo secondo me un dubbio lo segnalano anche i colleghi importante che il sistema sanzionatorio che come abbiamo già detto prima ha preso una certa strada che ci trova tutti d'accordo però riguarda tecnicamente solo le società quotate perché soltanto la consob vigila sul soltanto quelle sono sotto la vigilanza consob cosa succede per le invece per le altre società non quotate che predisporranno comunque le informative di sostenibilità per innumerevoli motivi quindi questo è un altro tema che si apre. Dei principi abbiamo già parlato di ISA 5000 ve l'ho segnalato prima sul fatto che non comprenda attualmente la tassonomia nel formato ESET quindi dovrà essere ulteriormente integrato e sono arrivato alla fine per evidenziare che un po' come assunto di tutte le cose che vi ho detto io credo che la norma anche grazie appunto al ruolo svolto dalle commissioni e quant'altro è andata ad avvallorare il ruolo e la conoscenza del commercialista degli standard di sostenibilità che dovrà affrontare il commercialista sicuramente col supporto di specialisti in certi aspetti risvolti dalla materia ma che comunque rimane pienamente come prevedeva già il nostro ordinamento professionale una delle caratteristiche della nostra professione e quindi è giusto richiamare come sempre anche tutti gli strumenti che nel tempo abbiamo elaborato come gruppi come osservatorio per facilitare il lavoro che ci troviamo a fare e che mi auguro diventi un lavoro di soprattutto di opportunità. Ultimissima cosa che vi dico partendo dal fatto che oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione ma per dire che questo tema della sostenibilità riguarda la nostra professione abbiamo visto oggi riguarda la nostra vita quotidiana di tutti come cittadini come come consumatori e mi è venuto in mente appunto che quindi noi con responsabilità seguiamo questa tematica e avremo modo nei prossimi incontri proposti dal nostro gruppo di andare a vedere ad esempio come la sostenibilità viene gestita da una società di servizi ambientali Axel Valsusa che sarà nostro ospite nell'incontro dell'11 dicembre prossimo per illustrarci le politiche irgile ma di quanto altro prima? Sempre sotto il cappello dell'osservatorio? Sotto il cappello dell'osservatorio sì ma l'ho detto più volte No nel senso che poi invitiamo tutti No no assolutamente e sarà interessante capire come loro nel fare il bilancio di sostenibilità ad esempio applicheranno questa transizione che vedevamo prima e quindi vi segnalo già questo questo save the date che sarà preceduto il mese prossimo tendiamo se riusciamo ecco a livello organizzativo a proporne uno al mese da un altro incontro il 26 invece di novembre in cui vedremo come questi fattori esgi siano molto importanti per noi nell'affiancare anche il piccolo imprenditore nel processo di managerializzazione e in come i fattori incidono sulla misurazione sulla valorizzazione delle aziende tematiche ritengo molto importanti che come osservatorio vi proponiamo per i prossimi incontri di qui alla fine dell'anno mi scuso se sono andato un po' oltre e lascio la parola al collega per entrare agli aspetti più giuseppe hai meritato una bottiglia d'acqua e un bicchiere perché veramente è stato intenso ma come sempre molto molto puntuale grazie e quindi io lascerei la parola a stefano che affronta sotto un profilo concreto e pragmatico il tema della relazione e della testa della relazione di attestazione in relazione alla revisione di sostenibilità tenendo conto che siamo comunque in una fase ancora parzialmente di dubbi da chiarire e di provvedimenti normativi che devono essere promulgati nei prossimi giorni grazie stefano so che oltre a relazione odierna importantissima ci terrai aggiornato attraverso tecne info sull'argomento anzi ti prego di farlo di modo che proseguiremo e rimarremo allineati sul tema io mi scuso solo se alle 18 e 30 mi vedete fuggire saluto già sindora e mi scuso con il relatore prego grazie grazie mille sì diciamo come come tu sai è un tema che mi sta molto a cuore quindi su tecne info sicuramente trovate troverete degli aggiornamenti a partire già da domani c'è uno scoop diciamo su un intervento un intervento parlamentare di di ieri io parlerò essenzialmente di come si fa ad acquisire i poteri del del revisore della sostenibilità quindi come si diventa revisore di sostenibilità come si passa da revisore cosiddetto normale al 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 revisore della sostenibilità quindi che può attestare la conformità della relazione della rendicontazione della sostenibilità innanzitutto chi è questa nuova figura troviamo la definizione nel decreto attuativo che recita che revisore legale abilitato anche lo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del decreto legislativo il 125 ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro stato membro dell'unione in conformità alle disposizioni di attuazione delle relative direttive quindi una definizione abbastanza scarla quindi il revisore è soggetto incaricato di emettere la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che diventa questa rendicontazione come abbiamo detto una parte del bilancio d'esercizio quindi fa parte dell'allegato relazione sulla gestione del del bilancio d'esercizio ed ecco perché si è data la possibilità nel decreto di assegnare l'incarico allo stesso revisore che già revisiona il bilancio d'esercizio perché comodo c'ero lì bisogna però fare attenzione a diversi aspetti primo aspetto è se io sono una società che sono soggettata perché rientro nei limiti esempio nell'uomo i limiti delle grandi imprese alla rendicontazione devo però verificare innanzitutto se ho delle controllate e se ho una controllante nel caso nel caso io abbia una controllante e sommando i valori della controllante i miei che sono diciamo l'operativa grande del gruppo più quella delle controllate supero a livello di gruppo però la i limiti per essere soggettato alla rendicontazione non sono io che sarò soggettato la ricontazione ma la mia mamma quindi la mia mamma dovrà fare la rendicontazione di sostenibilità consolidata e la inserirà nella relazione sulla gestione consolidata questo che comporta che non è il revisore della società operativa che dovrà rilasciare l'attestazione ma il revisore della controllante che nella maggior parte dei casi coincidono ma non sempre ad esempio io faccio parte di un sono il revisore di una società del collegio sindacale che è incaricato anche della revisione che dall'anno prossimo sarà obbligata alla rendicontazione di sostenibilità che però ha una mamma che il cui revisore non è lo stesso perché diciamo non è stato se è stato assegnato a un revisore unico quindi in teoria in quel caso il la mamma potrà dare l'incarico di revisione al revisore della capogruppo quindi al suo revisore e quindi questo è un primo aspetto un primo aspetto che bisogna considerare perché anche un cambiamento rispetto al alla normativa precedente quindi nell'ambito di gruppi di holding di controllate bisogna fare prima una ricognizione a livello a livello delle società coinvolte sommare i vari i vari dati dell'attivo dei ricavi e dei dipendenti per l'attivo è applicabile anche per la rendicontazione la possibilità di non provvedere di non prevedere le elisioni di consolidamento quindi aggrego e basta in questo caso i limiti vengono aumentati del 20 per cento quindi questo è un primo step innanzitutto chi è la società che deve essere assoggettata che ha soggettata agli obblighi e se l'obbligo diventa individuale oppure collettaneo diciamo collettivo a livello a livello di gruppo perché da lì poi il gruppo deve prendere le decisioni su chi assegnare l'incarico l'incarico di revisione comunque in generale l'incarico può essere dato o lo stesso revisore o società di revisione che effettua già la revisione del bilancio d'esercizio oppure ad un altro soggetto esterno c'è chi dice che assegnarlo a un revisore diciamo terzo cioè non già coinvolto nella relazione aumenti l'indipendenza e rientriamo sempre nel concentro di indipendenza dei corrispettivi ovviamente più sommo corrispettivi e più sono legato al cliente e più diciamo potrebbe la mia il mio scetticismo professionale potrebbe risentire diventa un pochettino più soft no anche se non dovrebbe essere così però ovviamente più aumenta il rischio di perdere un monte di compensi più è elevato il monte di compensi più ovviamente il rischio di perderlo mi fa chiudere l'occhio su qualcosa e questo è qualcosa in più perché prima avevo il bilancio e adesso ho la rente di contazione di sostenibilità che è un'area ancora un po grigia nel senso i principi ci sono ma non sono stati studiati nessuno li ha applicati i principi di revisione sono ancora da definire in maniera in maniera definita quindi chi interviene a livello di revisore ovviamente aggiunge incertezza cioè si muove in un terreno abbastanza abbastanza melmoso quindi non stabile e poi vedremo un paio di consigli su come approcciare diciamo eventuali clienti sul discorso revisione che abbiamo individuato chi è il revisore di sostenibilità e chi può essere e chi può essere incaricato adesso dobbiamo vedere come si diventa revisore di sostenibilità perché a oggi nessuno di noi è revisore di sostenibilità secondo la nuova norma questo perché perché la nuova perché la norma prevede innanzitutto un tirocinio di almeno otto mesi che deve essere svolto presso un soggetto o una società di revisione che ha già incarichi di attestazione della conformità e già qui è un gatto che è un cane che si mangia la coda cioè io devo prendere l'incarico per prendere l'incarico devo fare il tirocinio da un soggetto che è già abilitato che però per fare l'abilitazione deve farlo presso un soggetto che abbia già incarichi secondo il nuovo il nuovo decreto questo ci spiegherà probabilmente il anzi sicuramente il decreto che uscirà interministeriale che uscirà a breve come uscire da questo loop diciamo il problema non si pone questo è un problema che si pone per chi è già revisore per chi non è revisore inizia da zero e può decidere se aggiungere i superpoteri della sostenibilità e quindi diventare revisore della sostenibilità oltre ad essere revisore diciamo così normale quello qui siamo abituati che erano abituati fino ad oggi nei tre anni di tirocinio devo includere anche otto mesi di tirocinio specifico quindi specifico sulla sul discorso questo è un concetto che va quando sarà tutto a regime siamo ancora nella fase di transizione vediamo come arrivare poi a regime gli otto mesi si possono fare anche disgiuntamente dal periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione della revisione regale perché io potrei anche averlo finito lo sto per finire mi manca un mese però voglio diventare anche revisore della sostenibilità come faccio aggiungo non ci sono alternative altri mesi 8 mesi per diventare revisore della sostenibilità che richiederà una relazione annuale a parte quindi ci sarà la relazione per il revisore per il risore legale è la relazione da mandare al mef entro 60 giorni dal termine del tirocinio per la relazione annuale c'è la possibilità di farne una una do che ovviamente conterrà due sezioni diverse una per l'audit classico e uno per l'audit di sostenibilità una volta finito il tirocinio per chi non è ancora revisore stiamo ancora parlando diciamo diciamo noi probabilmente molti di noi escono da questo concetto una volta finito il tirocinio dovrò fare io tirocinante ho fatto la relazione ho finito i tre anni includono anche gli otto mesi di praticantato di sostenibilità devo fare l'esame quindi in questo in questo senso viene modificato l'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che reca le norme che disciplina appunto l'esame come le modifica integrando ovviamente le materie d'esame con obblighi principi concernenti la redazione della renti contazione annuale individuale e consolidata di sostenibilità analisi della sostenibilità procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità e quindi ci saranno ci sarà un esame più esteso che conterrà anche queste approfondimenti questi materi in temi di di sostenibilità ovviamente ci saranno modifiche anche nella formazione continua formazione continua per fare il revisore classico sappiamo che ci vogliono 20 crediti formativi di cui almeno 10 caratterizzanti della revisione legale dei conti almeno 10 possono essere anche tutti e 20 però c'è il limite di 10 per la parte dei caratterizzanti il revisore della sostenibilità invece deve fare 5 in più deve fare 25 e qua i limiti diventano due i 10 il minimo 10 si riferisce sia alle caratterizzanti della revisione sia alle caratterizzanti la revisione per l'attestazione della conformità sulla renti contazione di sostenibilità quindi idealmente ne faccio 10 per la revisione 10 caratterizzanti la sostenibilità e 5 non caratterizzanti problema ad oggi qual è è che i 10 crediti caratterizzanti la sostenibilità non posso ancora farli perché non ci sono i codici quindi se io vado a prendere il programma del 2024 essendo uscito a febbraio ovviamente non contiene la parte relativa la parte caratterizzante contiene però nella sezione di è stata aggiunta una carattere tra i non caratterizzanti una serie di codici di materie di corsi che possono che riguardano la sostenibilità quello che diciamo prima per esempio il corso di oggi per esempio il corso di oggi che di 1 di 1 8 esatto manca lì manca anche la parte della revisione sono solo corsi sulla renti contazione non c'è un corso specifico mentre la norma dice che devo sostenere 10 corsi caratterizzanti la sostenibilità è la revisione anche della della renti contazione e quindi già lì c'è qualcosa che manca ma quella la cosa fondamentale che sono sotto non solo nella o nella bis come sarà come saranno i nuovi caratterizzanti ci sta lavorando ovviamente il mef non è ancora chiaro se uscirà una revisione del programma prima del 2000 della fine del 2024 o ci sarà un aggiornamento col programma 2025 quindi a febbraio quindi se così fosse a febbraio avremmo un programma dove c'è la sezione a che è sempre la sezione caratterizzante la revisione legale ci sarà una sezione non è ancora chiaro sarà un di cui della sarà una bis eccetera dove ci sono dove saranno i credit caratterizzanti la revisione poi ci saranno i soliti credit non caratterizzanti la revisione legale e la sostenibilità questo punto attenzione però al periodo transitorio e ci arriviamo dopo quando completiamo l'iter per diventare revisore che l'iter normale adesso però siamo una fase di transizione vediamo e vediamo che succede faccio il tirocinio do gli esami passo gli esami devo fare la domanda di abilitazione anche qui manca un pezzo nel senso che anche se fossero disponibili già tutti i tirocini già 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 gli esami eccetera manca però un decreto attuativo che mi dica come presentare che mi dia un facsimile di domanda da presentare al mef per confermare la mia abilitazione ci sarà un decreto che uscirà in questi giorni e comunque sempre nella fase successiva quando sarà tutto quanto definito il mef si prende 150 giorni cinque mesi infatti l'ho letta varie volte la norma c'è la 50 giorni sono cinque mesi per dare per dare l'ok come termine massimo quindi adesso sinceramente i motivi sotto questa definizione di tempistiche non riesco a cogliere sinceramente anche perché le risultanze dell'esame ce l'hanno il tirocinio la relazione ce l'hanno basta fare una somma uno più uno e mi da l'abilitazione comunque si vede che se la vogliono prendere con calma e si prendono questo e sono presi questo termine massimo vediamo adesso ad oggi però perché qui quello che abbiamo visto adesso sarà dal 2026 in poi ma da adesso al 2026 che succede chi è iscritto a registro dei revisori al primo gennaio 2026 non deve fare tutta quella trafila per diventare revisore della sostenibilità ma ci sono delle esposizioni transitorie che anzitutto limitano l'acquisizione dei crediti credi non sono più 10 ma sono 5 e ovviamente devono essere sempre nella in quella sezione famosa dei caratterizzanti la rendicontazione di sostenibilità è la relativa era relativa della revisione problema che ad oggi mancano dei passaggi che ho indicato nelle nuvolette ma anche il dm per la domanda e quello non è un passaggio di poco conto il programma del mef abbiamo detto che non è aggiornato ed è attesa la circolare del mef per definire per dare una sistemata diciamo all'applicazione di queste disposizioni transitori il problema per chi è e per coloro che erano già per quella società che l'ho già assoggettate al vecchio regime quindi alla dichiarazione non finanziaria gli incarichi sono in corso il problema che gli manca il revisore che possa firmare la relazione parliamo di società di grandi dimensioni e quotate enti di interesse pubblico quindi banche assicurazioni quotate eccetera quindi stiamo parlando di di società che nella stragrande maggioranza dei casi sono sotto legge delle società di revisione grandi e quindi probabilmente in pochi di noi sono direttamente interessati da questo aspetto non credo esatto che non sono segnale in capo le società di revisione come fanno quei poveri trenta però a rilasciare la relazione di revisione ieri c'è stato una è stata fatta questa questa domanda alla in sede di dibattito alla camera la camera dove stanno discutendo il famoso il famoso decreto è stata fatta una domanda per il 2024 che facciamo la risposta è stata non vi preoccupate verrà definito nell'ambito del decreto interministeriale cosa devono fare questi soggetti quindi ci sarà un iter agevolato diciamo per chi ha già incarichi per chi ha già incarichi secondo la vecchia normativa e ci sarà una transizione agevolata in modo che non debba aspettare i 150 giorni della domanda i 5 creti probabilmente ma quello di cui parlavamo l'altro giorno giuseppe anche quelli che stiamo facendo oggi probabilmente saranno considerati caratterizzanti sono comunque tutte teorie che verranno poi declinate nel testo del decreto però nell'interrogazione parlamentare uscirà domani un articolo su eotecne info si dice chiaramente non ci saranno problemi sarà gestito il problema quindi in qualche modo perché nel richiedente il richiedente diceva se ci vogliono 5 mesi per ottenere la domanda per ottenere la domanda siamo a ottobre siamo quasi a novembre 5 mesi arriviamo a aprile siamo giusto in tempo per rilasciare la relazione ci sarà un'accelerazione ovviamente di queste tempistiche che saranno accorciate e anche a livello di crediti formativi ci sarà credo una sorta di sanatoria non si andrà troppo sul sottile nell'individuare se sono caratterizzanti o meno basta che uno abbia fatto 5 crediti in tali materie entro l'anno o entro l'attestazione probabilmente dovrebbe essere a posto quindi il consiglio è chi ha incarichi di questo genere in corso cerca dovrebbe cercare di raccogliere questi 5 crediti prima possibile anche se non c'è il programma aggiornato del MEF quali fa? fa quelli della sezione D non ci sono alternative ci sarebbe un codice nella sezione A32 ma è relativa alla vecchia normativa quindi diventa un pochettino diventerebbe un po' rischioso e a volte inutile anche perché non è facile innanzitutto ci devono essere quei corsi quindi anche se andiamo a vedere sul sito del MEF non ci sono corsi di tal genere mentre corsi con la lettera D cominciano ad esserne parecchi convegni stessi sì, vi segnalo che comunque anche nel nostro sito nella formazione a distanza ci sono già alcuni eventi di materia D tra cui ad esempio l'incontro che citavo prima del primo luglio scorso del nostro gruppo e lì sono quattro ore sono già quattro soli più due due oggi siamo diciamo che cinque siamo a posto ma penso anche che venga prolungato anche il periodo di acquisizione però nel dubbio se uno se ne... almeno io per esempio farò così e penso anche tu ne prendo cinque entro fine anno così non stiamo poi a farci troppi pensieri strani troppo disattato se ne riconosco sì, un'altra questione a rifare, vado a riascoltarmi esatto, un'altra questione che c'è il disallineamento tra i famosi D nella parte bassa del programma perché salgono a febbraio è l'entrata in vigore del decreto che è il 25 settembre quelli fatti prima perché posso anche aver deciso di farli prima valgono o no? non sappiamo ancora anche lì sarà dovrebbe trovare risposta nel decreto una volta che ottengo un incarico devo emettere la famosa attestazione e quindi è stato introdotto un fratello diciamo dell'articolo 14 che è dedicato alla relazione di revisione il 14 bis che invece è dedicato all'attestazione del revisore che dovrà contenere la conformità della riconosciazione di sostenibilità alle norme del decreto che abbiamo visto la conformità all'obbligo di marcatura che come accennato dal collega il quadro normativo è ancora in fase di definizione ma lo sarà a breve e poi la conformità all'osservanza degli obbligo di informativa previsti dal famoso articolo 8 della tassonomia in soldoni ci sarà un paragrafo è strutturato un po' come una relazione di revisione anche se è un po' più slim diciamo un po' più sintetica ci sarà un paragrafo introduttivo che identifica come nella relazione l'indicotazione di sostenibilità sottoposta all'attestazione che può essere individuale o consolidata una descrizione della portata delle attività effettuate come nella relazione su revisione e poi le conclusioni del revisore quindi quale conclusioni del revisore vengono messe alla fine mentre nella relazione del giudizio ce l'abbiamo ce l'abbiamo subito però qui diciamo è più assume è una via di mezzo tra una relazione e una tipo una perizia di stima quindi diciamo ti dico prima cosa ho fatto e poi ti dico com'è andata la verifica lì invece devo proprio emettere un giudizio la verifica può essere fatta l'incarico può essere dato anche a più revisori della sostenibilità questa è anche un'altra novità abbastanza rilevante che se raggiungono un accordo sui risultati delle attività svolte presenta una relazione delle conclusioni congiunte un po' come fa il collegio sindacale nel caso invece di disaccordo ogni revisore si prende un paragrafo a parte dove evidenzia le proprie conclusioni indicando i motivi del disaccordo quindi diciamo che questo è un ulteriore sono ulteriori elementi da tenere presente principi di revisione ne ha parlato già il collega quindi siamo anche qui in attesa di una definizione da parte del MEF sentita la CONSOB e anche gli ordini professionali saranno coinvolti in questa definizione nei casi in cui ci sia la relazione sull'attestazione di conformità devo modificare anche la relazione di revisione perché visto che la rendicontazione all'interno della relazione sulla gestione e nella relazione di revisione c'è un paragrafo dedicato alla relazione sulla gestione le verifiche che faccio come rivisore normale non includono le verifiche relative alla rendizione di contazione e questo me lo deve esplicitare la relazione nel famoso paragrafo E quindi il revisore normale esprimerà un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità le altre parti della relazione rimangono sostanzialmente invariate come diciamo dei colleghi prima consigliamo di vedere le tabelle sinottiche in coda al documento del Consiglio nazionale perché lì per ogni articolo del decreto legislativo 39 2010 ci sono le modifiche quindi ci sono proprio in modalità revisione cosa è stato impattato quindi anche in termini esempio di indipendenza ci sono delle modifiche significative c'è una parte articolo 13 aggiunta per quanto riguarda il conferimento durata rinnovo dell'incarico revoca dimissioni eccetera quindi è abbastanza parallelo a quello della revisione si può prevedere di allineare i due incarichi quindi se io ho l'incarico di revisione mi è stato conferito anche l'incarico sulla renticontazione posso allineare la durata degli stessi questo per facilitare la gestione ovviamente nei casi in cui il revisore sia lo stesso che succede agli incarichi in corso secondo il decreto legislativo 254 2016 si possono portare a termine quindi non c'è la necessità di stopparli riassegnare l'incarico anche per evitare costi a carico delle aziende anche di gestione e quindi è possibile portare avanti questi incarichi ed è proprio su questi incarichi che è intervenuta l'interrogazione parlamentare perché sono su questi incarichi dove c'è il problema di rilasciare l'attestazione sul bilancio 2024 ok ai noi ci saranno i controlli di qualità anche sulla rendicontazione sulla sulla revisione del rendiconto di sostenibilità e in questa fase transitoria visto che bisogna formare i controllori per formare i controllori della revisione ci stanno mettendo il decreto del 39 e del 2010 siamo nel 2024 ci hanno messo 14 anni e ancora non li hanno formati figuriamoci i controllori della sostenibilità che è una materia veramente nuova impattante complessa eccetera quindi hanno detto in attesa di una formazione completa possono saltare tutti i step previsti per diventare controllori di qualità e possono già partire ovviamente devono avere delle conoscenze nella della materia ma possono già partire con i controlli di qualità probabilmente verranno definiti anche e dovranno essere definiti con un decreto a parte e le disposizioni transitorie di cui parlavo sono appunto queste è stata letta questo intervento anche come guardate che probabilmente questi partono già partiranno anche probabilmente i revisori i controlli della revisione dalle ultime ultime notizie sembrerebbe che partiranno o prima dell'estate o subito dopo ma questo perché ormai il 2024 sembra praticamente sicuro che sarà attenzionato bisogna poi vedere chi verrà scelto eccetera visto che io ho 60 giorni per mettere a posto le mie carte di revisione ad aprile emetto la mia relazione più due mesi siamo a giugno alcuni andranno ai sei mesi quindi non partiranno prima di settembre però sembra questa volta che si parta c'è il comitato che sta intervenendo con le relazioni sappiamo che stanno che stanno formando stanno finendo la formazione c'è ancora sono degli aspetti da chiarire per esempio su come gestire i controlli dei collegi sindacali e come gestire i software di revisione cioè come acquisire perché se è un software di revisione devo dare l'accesso praticamente al software e qui stanno valutando come e poi manca la cosa più importante che è il decreto attuativo dove viene spiegato un pochettino tutto quale sarà il primo anno ecco quale sarà il primo anno sarà retrattivo sembrerebbe il 2024 non credo che vanno ancora ancora dietro però queste sono tutte supposizioni su informazioni che abbiamo i nostri contatti nel comitato diciamo che sta coordinando che sta coordinando il tutto delle sanzioni a livello generale abbiamo parlato vengono aggiornate viene aggiornato ovviamente anche il famigerato articolo 24 che riguarda le sanzioni e tutti i livelli di punibilità dei revisori dall'avvertimento fino alla sanzione vera e propria quindi è stato previsto già quindi una modifica dedicata alla relazione di attestazione della conformità dicevo qualche raccomandazione prima di chiudere poi siamo ovviamente disponibili per domande e chiarimenti chi vuole entrare diciamo chi vuole diventare di sostenibilità secondo me credo di rappresentare un po' il pensiero anche dei colleghi deve studiare la materia perché è una materia nuova è in evoluzione la prima cosa da fare ovviamente il consiglio è studiarsi cosa è stato fatto in passato i gerai probabilmente potranno anzi sicuramente potranno ancora essere applicati quindi prima di spaventarsi con gli SRS uno può fare un po' di pratica con i gerai però poi bisogna studiarsi anche le SRS studiare tutti i principi contabili per le PMI per le volontarie per le quotate eccetera quindi comunque monitorare l'evoluzione della materia perché come come revisore deve conoscere i principi contabili ovviamente il revisore della sostenibilità deve conoscere i principi di renti contezione monitorare le novità sul regime transitorio ma qua entro fine anno sapremo di che morte e morire probabilmente diffidare perché siamo perché il problema non è tanto per chi redigeva già la rendicontazione di sostenibilità che sono società grandi quotate con oltre 500 dipendenti ma le nuove le nuove che possono non essere così grandi a un mio cliente ho dovuto dirgli io che dal 2025 avrebbe dovuto fare la rendicontazione quindi sono società che nascono un po' più piccole crescono ma diciamo il controllo di gestione e la struttura aziendale non ha seguito l'evoluzione del fatturato e quindi delle dimensioni dell'azienda e quindi spesso si cerca anche di risparmiare io mi compro adesso ci sono delle piattaforme addirittura mi hanno detto per fare la rendicontazione di sostenibilità uno crede che uno spenga un bottone ed esce fuori un report di 30-40 pagine il problema è che è molto più complesso bisogna coinvolgere gli stakeholders bisogna la materialità la tassonomia cioè bisogna fare delle interviste in azienda intervistare i clienti i fornitori che quindi è un impatto un impatto che richiede almeno un anno diciamo per adeguarsi ovviamente nessuno nasce imparato quindi il consiglio da fare ai nostri clienti affidiamoci almeno nella fase iniziale per il primo anno per i primi due anni nel convegno nel scorso convegno abbiamo detto che almeno un paio d'anni ci vuole di affiancamento per rendere poi le aziende indipendenti per camminare da sole perché fare il revisore della sostenibilità in questa situazione di incertezza su una società che affida la rendicontazione all'unica persona che fa il controllo di gestione direi che senza indicazioni sui compensi ancora perché non si hanno indicazioni sui compensi già i compensi della revisione sono molto diciamo contenuti a maggior parte figuriamoci un lavoro aggiuntivo dato lo stesso revisore che fa già la revisione del bilancio 3.000 4.000 euro e mi fai anche la rendicontazione con tutte con tutte con tutti i rischi e valutare la collaborazione almeno all'inizio quando non si hanno ancora non si è maturata ancora la necessaria esperienza di collaborare con colleghi più esperti più esperti in materia volevi Giuseppe direi che abbiamo abbastanza concluso si aggiungo ancora qualcosa direi che queste raccomandazioni le condivido e penso che siano un po' un valore aggiunto anche dell'incontro di questa sera mi viene in mente che l'approccio che abbiamo sviluppato negli anni qui presso il nostro ordine può tornare utile anche in questa fase credo che sia importante in questa fase coinvolgere i commercialisti che sono già presenti nelle aziende che sono interessate a questo a questo processo e credo che in alcuni casi come quello che avevo ricordato prima ma anche in altri la collaborazione col dipartimento di management può essere utile perché sappiamo che il nostro dipartimento ha degli spin off che possono mettere la disposizione delle competenze che possono fungere da supporto al revisore che da solo soprattutto se è un commercialista se non è una società diciamo più articolata e più organizzata può avere delle maggiori difficoltà quindi credo che ci siano gli strumenti e i modi per poter far sì che questa questa novità diventi per noi un'ulteriore opportunità questo ne sono convinto però giustamente non bisogna sottovalutare l'impatto credo che il coinvolgimento di specialisti sia non solo dei colleghi più esperti ma anche di soggetti diversi sia indispensabile ma peraltro c'è un principio di revisione apposito che prevede il coinvolgimento dello specialista nell'attività di revisione dell'esperto e credo che questo sia indispensabile sia per chi predispone le rendicontazioni pensiamo ad esempio alla parte ambientale dedicata alla misurazione delle emissioni o alla riduzione dei consumi energetici con scope 1 scope 2 attendere anche scope 3 sono aspetti molto tecnici che indubbiamente richiederanno il coinvolgimento di esperti e questo secondo me sarà un'esigenza che avrà anche il soggetto incaricato della revisione legale per certi versi quindi è una materia sicuramente demanding come dire demanding per tutti ma che insomma siamo pronti ad affrontare ritengo anche perché il mercato c'è perché ci sono le 8000 8000 aziende in più rispetteranno prima più tutte le volontarie perché più si andrà avanti queste 8000 probabilmente chi chiederanno una rendicontazione una relazione ai loro clienti ai fornitori quindi ci sarà un'espansione e questo è un altro aspetto da definire se ho l'incarico volontario con quali principi devo portarlo a termine probabilmente sarà come si fa per la revisione classica con gli stessi principi che utilizzo per l'audit quindi anche in questo caso probabilmente i nuovi principi di revisione saranno quelli che dovranno essere applicati anche per le volontari però qua ovviamente ci aspettiamo interventi soprattutto a Sirevi che è un po' la società più vicina alla società di revisione che sono già quelli che sono già esperti nella rendicontazione tra l'altro Sirevi ha predisposto dei documenti di ricerca negli anni scorsi uno relativo proprio alla revisione delle dichiarazioni non finanziarie l'altro relativo alle dichiarazioni non finanziarie ai bilanci di sostenibilità predisposti secondo i principi GERAI immagino che a Sirevi stia lavorando per poi proporre ulteriori documenti e penso che anche noi troveremo modo di coinvolgerli magari in uno dei prossimi incontri perché ci vengono a raccontare cosa stanno facendo ci sono delle domande prego colleghi sindacali con revisione legale i componenti devono tutti essere dipende chi è perché si può incaricare anche uno se il conto viene dato al progetto sindacale non credo che sia possibile infatti lo verifichiamo però anche a me risulta leggendo appunto lo possiamo verificare su quel documento del Consiglio Nazionale che evidenzia bene le modifiche ma con beneficio di inventario perché è importante questo aspetto venuto in mente anche prima credo che non sia più possibile affidare la revisione della sostenibilità chiamiamola così che tecnicamente è la revisione sulla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità al collegio sindacale quindi se è abilitato uno solo dei sindaci può farlo può farlo perché comunque il revisore direi di sì salvo che escono fuori del però ritengo che poi c'è il tema di dipendenza ricevi scusa il discorso del regime transitorio di 5 30 abbiamo detto dell'evento di giugno che però è prima della data di settembre quindi quello potrebbe essere più uno per le 4 ore del convegno ma è ancora un punto che stiamo cercando di gestire anche col supporto della direzione dell'ordine con cui ci augiamo continuamente su queste cose diciamo che è fondamentale attendere questo decreto che però uscirà a breve può darsi che alla luce di questo decreto qualche indicazione in più ci sia chiaramente l'auspicio sarebbe di poter far sì che questi corsi se già svolti possano poi valere anche ai fini dei famosi 5 credit si adesso non ricordo se erano proprio quattro quello del primo luglio ma controllate perché non c'è solo quello ce ne sono già due o tre già svolti più quello di oggi e poi ci saranno i prossimi due che vi ho già detto prima quindi il 26 novembre e l'11 dicembre saranno due occasioni in cui fare un po' il punto poi sicuramente Eutecna uscirà con degli articoli si ottenne.info anche già domani e nei prossimi giorni diciamo che a Torino abbiamo la fortuna di avere tanti strumenti con cui tenerci aggiornati in tempo reale noi oggi in quest'ottica che abbiamo voluto fare questo incontro proprio perché è un tema che si sviluppa ma che ci riguarda direttamente quindi cerchiamo di magari partecipando anche alle prossime riunioni di fare il punto di trovarci preparati grazie a te va bene allora ci sono altre domande? Ma una semplice se avete risposto prego certo come si conta i limiti dimensionali? per esempio stamattina ero in una società un gruppo che a livello di una società che ha 80 dipendenti in Italia come gruppo italiano 120 però controlla una società americana che è altri 240 però la società ne ha 80 facendo la somma di tutto andiamo ben oltre i 250 e come ricavi come consolidato però consolidato comprende anche le società americane per più della metà fa 240 milioni di ricavi quindi diciamo che due dei tre limiti se guardiamo i limiti numerici sarebbero superati non sono superati invece se guardiamo la singola società ma il consolidato è l'obbligo del consolidato è in capo alla società italiana è in capo alla società italiana è probabile che si rientra anche questo lo verifichiamo perché è un caso un po' opposto a quello che abbiamo visto prima quando si parlava di gruppi con attività in Europa superiore a determinati limiti qui siamo al contrario perché siamo di una holding italiana con società estere in questo caso americane che messe insieme a quell'italiana superano il parametro lo esaminiamo ritengo anch'io che si rientri tecnicamente alla lettera della norma grazie sì che potrebbero esserci perché non è detto che se sono obbligato a fare il consolidato perché io posso anche essere obbligato a non farlo perché ho un'essenzione perché la capogruppo è talmente grande che ci sono delle controllate sono piccole in quel caso devo fare la rendicontazione consolidata sembrerebbe di sì quindi l'obbligo del consolidato a volte non è non è collegato all'obbligo della rendicontazione con De Valle con il professor De Valle avevamo studiato noi abbiamo fatto per Tecne una scheda dove ci sono degli esempi degli esempi con tutte con diverse casistiche non abbiamo incluso casistiche perché ancora non è chiaro casistiche con partecipate fuori web però ci torneremo sicuramente ci torniamo sicuro esatto nell'esempio avevamo fatto il caso di una holding francese tra l'altro è probabile che poi queste società americane subsidiary americane non seguano anzi seguono dei principi di sostenibilità completamente diverse che sono quelli dell'IFRS per esempio e come fai poi consolidare diventa quello c'è l'interoperabilità anche lì con tante complessità si bisogna aspettare il primo anno il 2024 si chiariranno molte perché il primo anno sarà il 25 no nel senso il 2024 sarà il primo caso il primo anno di applicazione delle nuove norme e quindi per forza verranno e riguardano le quotate e quindi ad aprile ci andiamo a prendere i rendiconti quando sono pubblici e possiamo vedere i vari casi dal 25 l'obbligo riguarda tutte le imprese di grandi dimensioni definite secondo i parametri che dicevamo prima quindi quelle che hanno superato almeno due dei tre parametri aver impiegato occupato una media di 250 dipendenti nell'esercizio quindi da 1 1 25 31 12 che abbiano superato 50 milioni di ricavi di vendita di prodotti e prestazioni di servizi e 40 milioni di 25 25 milioni di totale attivo come già notavo prima sembra un po' una contraddizione che tu la verifica di questi limiti la potrai fare a fine anno ma in realtà è importante il dato previsionale cioè tutta la materia della rendicontazione di sostenibilità è fortemente prospettica quindi questo fa sì che bisogna necessariamente agire per prima cosa sui sistemi organizzativi e quindi la capacità anche di fare delle previsioni per cui non si può certo aspettare alla fine del 2025 e accorgersi di essere soggetti a quell'obbligo ma devi averlo saputo e programmato prima come ovvio perché in realtà è già dal primo gennaio che devi attrezzarti per insomma per raccogliere i dati esaminarli eccetera quindi il perimetro è una delle prime cose da fare quindi a questa domanda dobbiamo dare una risposta risponderemo nelle prossime puntate allora grazie a tutti per l'attenzione ci vediamo tu pensai c'è un'altra sì scusate ah scusa non ho visto la manina ci sono non è chiaro come deve essere considerato il limite dei ricavi nel senso se deve essere considerato a uno oppure anche altri ricavi perché c'è stato un caso di società calcistiche che hanno la maggior parte dei ricavi in altri ricavi e proventi quindi a cinque sì e quindi c'era questo c'è anche questo e sotto questo dubbio volevo capire se c'era già stato qualche ragionamento su questo diciamo che non ci sono chiarimenti ufficiali però per prudenza io prenderei il valore della produzione così a parte la variazione delle rimanenze ho dentro tutto perché una società del genere non può esimersi da fare sì perché in effetti la lettera della norma dice ricavi netti delle vendite e delle prestazioni questa è la lettera della norma che non dice a uno non dice a uno però effettivamente sembra riferirsi sono d'accordo più alle voci precedenti rispetto ad a cinque però effettivamente se i miei ricavi li mettono a cinque quelli sono i ricavi sì probabilmente qui c'è anche un peso da dare al principio della prevalenza della sostanza sulla forma però sono tutti esempi queste vostre domande di innumerevoli dubbi che iniziano ad arrivare e arriveranno sempre di più quindi grazie delle domande non siamo riusciti a dare una risposta immediata ma le indicazioni di approfondimento grazie a voi prego vai può sussistere con una rendicontazione volontaria di sostenibilità però in assenza di una certificazione volontaria di bilancio allora io in parte prima mi ero già posto questo dubbio ve l'avevo condiviso nel senso che per certificazione volontaria intenderesti coi principi che applicano alle imprese di grandi dimensioni eventualmente perché questa non è più prevista dalla norma cioè mentre prima il decreto 254 prevedeva espressamente la possibilità di seguire esattamente la norma sulle dichiarazioni non finanziarie anche a livello volontario però era la stessa adesso il decreto 125 non dice nulla a riguardo però questo forse non è proprio la tua domanda cioè nel senso una società che decide di fare come tante che predispone un report di sostenibilità a livello volontario poi se è volontario potrà decidere se farlo con i GRI se farlo con i nuovi principi per le piccole medie imprese che saranno pubblicate entro la fine dell'anno dall'EFRAG che non si chiamano SRS VUSME Voluntary Small Million Entities però sono impostati in modo completamente diverso erano stati oggetto dell'incontro del primo luglio che ricordavamo prima hanno fatto un intero pomeriggio parlando di quei principi che però non sono gli stessi che applicano le grandi imprese quindi c'è anche quel tema lì però una volta che una società decide di continuare a predisporre un report di sostenibilità come si faceva prima col bilancio sociale secondo me è una scelta volontaria se soggettarlo a revisione o meno io credo che sia opportuno ma ad esempio alcune società che noi abbiamo seguito che sono venute anche a portare la loro testimonianza in questa sala negli anni non hanno scelto di effettuare una revisione quindi non sono andate nella direzione dell'assurance ma avevano scelto vi ricorderete di affidare a dei professionisti terzi una valutazione di processo quella che è prevista dal nostro metodo o di Citorino per il bilancio sociale di sostenibilità cioè quella è una scelta di tipo diverso non è una revisione però è un modo per dire quantomeno ho incaricato dei professionisti di attestare che il processo amministrativo di predisposizione di questo report volontario segue i principi dichiarati nella nota metodologica perché all'inizio di Rono l'ho fatto seguendo i principi Gerai piuttosto che gli standard e frage in Boz quello potrebbe essere una strada ma certamente qui abbiamo in sala comunque dei revisori saluto amico Frigerio molto esperti e quindi ovviamente in un caso del genere si può benissimo pensare di dare un incarico di revisione volontaria che abbia ad oggetto ben definito quel bilancio e allora lì i principi di riferimento credo che al momento ricadrebbero su Isai 3000 revised perché non credo che ci siano altre possibilità se se si andasse nella direzione di assegnare un incarico di revisione volontaria poi bisogna stabilirne il perimetro se è limitata quindi negative assurance se è una revisione completa però non c'è un obbligo ovviamente è una scelta anche sulla parte della rendicontazione che penso che fosse quella la domanda perché può essere anche una volontaria travestita da obbligatorio nel senso che te lo chiede la banca per esempio cioè se la banca dice perché il caso è quello poi alla fine è quello perché io se non sono assoggettato alla revisione vuol dire che sono una SRL sotto i parametri del 2477 quindi sono veramente un'entità piccola quindi perché mi viene in mente di fare perché me lo chiede la banca probabilmente il fornitore qualcuno della catena di valore e quindi io sono costretto a farlo costretto a farlo in quei casi probabilmente il consiglio se io fossi commerciante però fatti anche la revisione del bilancio secondo me sì perché comunque visto che ci sei anche perché c'è poi un legame nel senso che gli impatti come diciamo prima gli impatti dei fattori ISG sono anche contabili e quindi se io fossi la banca chiederei la copertura di tutti e due gli aspetti perché se poi non è in continuità posso avere un ISG bellissimo ma non è in continuità perché non riesce ad assorbire dei fondi rischi cioè perde un pochettino utilità della richiesta fatta dalla banca o da chi per lei ok possiamo chiudere allora grazie per la vostra partecipazione attenzione e ci vediamo nei prossimi incontri buona serata a tutti grazie grazie